we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi posizione del fort white nuovo il numero 74 si trova nella cantina di un assassino a bordo di palmetto ragazzi la cantina è ovviamente questa come vedete il fort white è qua lo raccogliamo e lo portiamo a casa io vi ringrazio per avere guardato questo video un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live alle 17 ciao